Io sto aggiungendo un pezzettino. Quali luce di qua? Perché c'è la luce? Piano eh! Ok, dovrebbe spiegare. Però questo è di qua. Oh, adesso se ne fa sentito prima. Prima si era spostato. Perché quando ho messo la testa... Viene l'angolino. Lo vedi? Non mi devi dare questo? Ci proviamo signora. E' un buco. Hai preso? Eccolo. E' piccolino. E' un buco. E' un buco? Non è. E' piccolino. E' piccolino.